Caro diario, oggi lo zio Ernesto voleva stupirci facendo il mago. Che disastro! Allora io e Luisa abbiamo preso in pugno la situazione. E grazie all'apprendista mago che ci ha portato papà, abbiamo iniziato a fare degli stupendi giochi di abilità. Avessi visto zio Ernesto, era tanto casato e faceva tanto baccano che abbiamo deciso di farlo sparire. Dimenticavo, questa è la serie magica. Grazie a tutti.